E a proposito di amore vero, nel maggio scorso è stata costituita la consulta diocesana per la carità che raccoglie oltre alle caritas parrocchiali anche le mille espressioni del volontariato cattolico presenti a Bologna. Come vede questa presenza? Vedo un modo per mettere sempre più la caritas, che è di cui il Presidente è il Vescovo, quindi la carità del Vescovo, in una condizione di poter coinvolgere tutte le realtà, perché la caritas non è una istituzione accanto ad altre, è la carità del Vescovo che è chiamata ad animare pastoralmente e quindi anche concretamente tutte le realtà che si esprimono nei confronti dei bisognosi. Quindi è un momento di animazione che vuole essere rappresentativo il più possibile, quindi questa consulta vuole proprio coinvolgere tutte le realtà caritative, l'arcipelogo della carità che è molto vasto a Bologna e che se dovesse chiudere i battenti veramente saremmo in crisi, perché non vuole sostituire le strutture pubbliche che hanno i loro doveri, i loro compiti, ma la carità della Chiesa è sempre lì, tutti i giorni, tutti i giorni, ecco facendo molte supplenze ed è felice quando può anche collaborare con chi invece non si ispira al cristianesimo ma fa qualcosa per gli altri. Ma questa consulta vuole essere un ulteriore passo in avanti verso il coinvolgimento delle esperienze di carità presente in Diocesi.